Allora, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Non è un Paese. Amarsi in vacanza si sa è abbastanza semplice, insomma la vacanza è un po' la dimensione ideale della coppia, no? Chi di noi non si è mai regalato uno smart box, cioè una fuga d'amore per due, magari alle termine, una cosa mezza posh, però il problema è che se ci sono dei problemi a casa, poi quando torni questi problemi li ritrovi. Questa sera con noi c'è la signora Rosaria che ha fornito un'alternativa molto valida a questa biega illusione che è lo smart box. Vuol parlarcene lei nello specifico? Innanzitutto grazie di avermi invitata. Prego, ci mancherebbe altro, insomma i nostri telespettatori sono sempre golosi di queste stramberie. Allora guardi, io ho pensato che gli agi dell'età moderna in realtà sono soltanto delle distrazioni che difficilmente riescano a cimentare il rapporto, anzi rendono tutto frivolo, illusorio. Poi ho pensato a mia nonna e a mio nonno. Come mai è strana questa associazione? La guerra li ha tenuti lontani tantissimo tempo, lui poi è disertato e lei aiutava in segreto i partigiani contro i tedeschi. Poi dopo si sono ritrovati tra le fila della resistenza, pensa che hanno aiutato gli alleati a liberare il paese. Beh con questa esperienza il loro amore non ha fatto che rafforzarsi. Quindi ho creato questi cofanetti, questi smart box che ho chiamato sofferenza condivisa. Pazzesco, regia, possiamo inquadrare gli smart box? Ce ne vuole illustrare uno? Per esempio questo, questo qua, 25 aprile per 2, è una simulazione del giorno della liberazione, ispirato proprio ai miei nonni. Pazzesco, posso? No, c'è che... Esperienza per due persone. Che vuol dire? 25 aprile per 2, sì, è una simulazione del giorno della liberazione. Pazzesco, ma i proiettili sono veri? Ma certamente, è tutto vero, è tutto verissimo, aiuta l'esperienza. Sono veri i proiettili, sono veri i tedeschi, ci sono veri cani pastore, pure la cattiveria è vera. Ma è tremenda. Pazzesco, quanto costa una cosa del genere, un'esperienza di questo tipo? Beh, allora, con i tedeschi, i cingolati, 2.500 euro il kit base. Ah, 2.500 euro, è una cifra, cioè, ah, ma poi mori, ma che c'è? Ma i proiettili sono veri, però, sono veri? Assolutamente, ripeto, è tutto vero, è tutto verissimo. Vedo che ci sono anche tante altre esperienze, oltre quelle del 25 aprile. Assolutamente. Tipo questo? Questo qua? Se lo vuole? Sì, sì, questo qua, ah, sì, sì, evasione per due, è in stile le ali della libertà. La coppia, qua, deve tentare di scappare da un penitenziario di massima sicurezza in mezzo al mare. Non dico altro. Pericolosissima, pericolosissima questa cosa. Ma, per esempio, quella più, il pezzo da 90, il cavallo da battaglia. Allora, solo per i più sgravati, e soprattutto se si vuole fare un po' di upgrade nel rapporto. Questo? Ce lo vuole mostrare? Eccolo, Auschwitz per due. Auschwitz, Auschwitz, proprio Auschwitz. Fazzesco. Ma è tipo un po' la vita è bella? No, 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 questo è più greve, è in stile Schindlerlist. Ah, Schindlerlist. Comunque, dietro ogni cofanetto c'è l'indice di sofferenza, un po' come l'intensità, esattamente, un po' come l'intensità per le ciarde da caffè, così non ci si può sbagliare. Insomma, è meglio andarci cauti, saccom'è. Eh certo. Ma è una cosa orribile, regalo. Per esempio, Rosaria, scusa, perdonami, quanto potrebbe costare un Auschwitz per due? Sì, abbiamo i forni, le docce, ma direi un 10k, all inclusive. Pazzesco, bellissimo. Pazzesco cosa? 10k i forni, ma non lo sai di scena. Ma Valerio, ma qua stiamo vendendo le emozioni quelle vere. Questo è vero amore. Questa è la prova del 9 di un rapporto. Se il rapporto sopravvive a una cosa del genere, è vero amore. Tu sei indeficiente, tu sei scemo, tu sei una st***a. Ma che c***o, ma vaffa, c***o. Io ti cammino i guardi, io ti riuscio, sto pezzo del m***o, c***o, c***o. Vabbè, io a Valerio gli regalo un bel taxi sbagliato a Caracas, così gli facciamo abbassare la cresta. Grazie, Rosaria, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie, Rosaria, e ci vediamo alla prossima puntata.